Grave lutto nel mondo della imprenditoria. È morto infatti ieri, 27 gennaio 2018, Ingvar Kamprad era un famoso imprenditore svedese, pensate che fondò infatti nel lontano 1943 IKEA, il negozio che vende mobili ma anche arredamento vario per la casa. Fu uno degli uomini più ricchi del mondo, nel 2007 infatti raggiunse la massima posizione arrivando al quarto posto negli uomini più ricchi del pianeta Terra, 33 miliardi di USD. Un impegno che ha dimostrato nel corso della sua esistenza su questo pianeta. È stato davvero colui che realizzò, colui che creò IKEA, questo marchio di mobili, questo marchio che ha saputo in qualche maniera, diciamo così, attestarsi per quanto riguarda il mercato, non solo italiano ma anche ovviamente svedese. Dunque un personaggio che si spegne, che lascia però in realtà una grande idea, quella di creare questo prodotto o meglio questa, diciamo così, questa marca IKEA che ancora oggi viene considerata come un marchio che abbellisce, che arricchisce le case degli italiani non solo e soprattutto arreda spazi casalinghi. Bene, il video termina qua e non posso far altro che dirvi che egli nacque a Lingby il 30 marzo del 1926 e Ingvar Kamprad ripose in pace. Amen.